bella ragazzi qui è Bistard che vi parla vi volevo subito dire una cosa chi ha visto il video di prima in cui spiego come entrare nella crew eccetera se lo scordi completamente dalla testa perché ho fatto un hyper fail non riesco io a cercarvi perché qui in alto a destra pensavo di poter inserire il vostro nome qua del social club andare nella vostra pagina e invitarvi però chiaramente qua non posso perché c'è solamente scritto cerca membri o crew io invece pensavo che potessi cercare anche altre persone quindi ragazzi sono umano anch'io sbaglio anch'io quindi ho subito tolto quel video e adesso vi spiego esattamente per entrare nella crew cosa dovete fare chiaramente vi dovete sempre iscrivere al mio canale youtube lasciare mi piace commentare sotto tutti i vari video poi dovete andare nella pagina facebook e iscrivervi anche nella pagina facebook e poi a venire qui e cercare trova una crew poi dovete scrivere esattamente qua il mio nome Bistard con tre a con la b minuscola e poi vi verrà fuori la prima e la seconda crew chiaramente la seconda crew la devo ancora sistemare quindi potrete fare richiesta solamente qua nella prima crew e ci sarà scritto mi pare richiedi invitori oppure richiedi unisciti a crew una roba del genere adesso non lo so bene comunque voi mi mandate la richiesta per poter entrare nella crew e poi io vi accetterò questo qui è l'unico metodo valido quindi chi ha visto il video in precedenza se lo scordi dalla testa che purtroppo ho fatto un errore quindi ragazzi se avete dubbi scrivetemi nei commenti lasciate un bel mi piace al video e ci vediamo pomeriggio a gta online che io sono già online quindi vi aspetto numerosi quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao